Salve, sono Giuseppe Filannino, sono uno studente barlettano all'ultimo anno della Laura Magistrale in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Torino. Non sono un volto nuovo per la Scuola di Politiche, infatti da poche settimane si è conclusa la mia esperienza con il corso Impact tenutosi proprio qui a Torino a tema politiche pubbliche e innovazioni. Ed è proprio grazie a tale esperienza che sono saldamente convinto di voler continuare il mio percorso con la Scuola di Politiche, magari proprio con il corso annuale. Infatti dato il mio percorso di studi con tutta probabilità non sarò mai un politico in senso stretto quanto piuttosto un tecnico, eppure credo che anche i futuri tecnici vadano formati su quelli che possono essere gli impatti sociali, culturali ed economici delle loro scelte, delle loro decisioni. Ed ho avuto la prova di come la Scuola di Politiche riesca a formare i suoi alunni anche se vengono da background totalmente diversi e come la Scuola di Politiche stessa diventi un polo attrattivo per ragazzi totalmente diversi ma con l'unica passione per la cosa comune.